A Ponte Cagnano gli altivisti del Movimento 5 Stelle hanno incontrato i vertici provinciali e regionali del partito. Con loro i portavoce del Movimento in Consiglio regionale, Michele Camarano, e in Consiglio comunale a Salerno, Catello Lambiase. La coordinatrice provinciale, Pentastellata Virgilia Villani, ha affermato Il Movimento 5 Stelle di Ponte Cagnano-Faiano non si fa trovare impreparato. Qui come a Salerno abbiamo dovuto rilevare che la visione di sviluppo delle comunità a guida PD è sempre la stessa, la speculazione di Lizia. Mentre il Movimento 5 Stelle si è battuto ed ha ottenuto importanti opere come l'aeroporto e di conseguenza la nuova linea della metropolitana. Niente è stato fatto dagli amministratori locali per le ZES e lo sviluppo dell'area costiera. Matteo Zoccoli del Movimento 5 Stelle di Ponte Cagnano-Faiano ha ribadito Insieme a possibile sinistra italiana abbiamo l'ambizione di andare oltre la scadenza elettorale del 14 maggio con un progetto politico che ponga al centro la tutela dei beni comuni, l'ascolto, la partecipazione reale dei cittadini e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio storico architettonico.